Siamo a Mammola nel cuore del Borgo Antico e andiamo a visitare uno dei presepi più artistici realizzati da Damiano Panetta, veramente una realizzazione straordinaria, un'opera benedetta da Don Alfredo Valenti, parroco della chiesa matrice della parrocchia San Nicola di Bari. Siamo all'interno dell'abitazione dove l'artista ha realizzato questo presepe veramente suggestivo. Allora Damiano ha pensato di realizzare una serie di presepi, ma quanto lavoro c'è dietro tutta quest'opera? Parecchi mesi di lavoro, pazienza e tanta tanta buona volontà perché quasi due mesi, due mesi e mezzo qua che stiamo preparando il tutto, diciamo cercando di realizzare qualcosa di bello per il paese, per la gente che viene a vederlo. Dunque tantissimo lavoro, quasi tre mesi ma soprattutto una serie di presepi, tutti veramente suggestivi, anche inseriti in prodotti antichi della tradizione calabrese e della tradizione mammolese. Sì, come puoi vedere ci sono parecchi presepi, infatti uno piccolino qua dentro una sveglia, questo è fatto dentro un'anfora, vedi tutta roba, sempre con materiale riciclato in giro, quell'altro lanternina fatta pure così, diciamo, gittini piccolini, così. I prodotti che hai utilizzato, abbiamo visto intanto tanti pastori particolari, dobbiamo dire effettivamente che anche la scelta è stata particolarmente azzeccata. Di questo devo dare atto all'aiuto pure di mio nipote che mi ha aiutato nella scelta di questi personaggi perché è molto più appropriato di me, lui ha un altro modo di dire le cose, sta più portato per queste cose. Ho chiesto aiuto, lui volentieri mi ha aiutato nel fare le scelte, nel fare certe cose del presepi. È sempre una gioia poter vedere come la tradizione del santo presepe che sia ancora viva nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. E questo luogo, questo ambiente, il nostro caro Damiano ha allestito proprio per questa esposizione di piccoli presepi, dà un segno di gioia e di speranza. Cioè nel senso che questa è una manifestazione sia esterna della nostra fede, ma che in qualche modo fa cogliere veramente dove sta il nostro cuore, no? Il nostro cuore è sempre alla ricerca del Signore e chiede sempre quella giustizia e quella pace che appunto Gesù Cristo ci ha testimoniato proprio con la sua venuta in mezzo a noi. Tamabola si prepara dunque alle festività natalizie. Sicuramente è una bella atmosfera, una bellissima creazione natalizia, quella di Damiano Panetta. Siamo anche qui noi come amministrazione comunale a congratularci per questa bellissima iniziativa. Rivivono le botteghe, le botteghe di un tempo, quelle artigianali, quelle della Mammola d'altri tempi, della Mammola di qualche decina di anni fa e quindi una bellissima atmosfera natalizia proprio ad aprire le festività, ad aprire appunto l'arco dei festeggiamenti a Mammola del Natale. Questo è un angolo suggestivo molto importante della nostra Mammola. Sta un po' sotto rispetto alla Chiesa Madre e quindi rappresenta uno dei luoghi diciamo più antichi, uno dei primi luoghi ad essere stati abitati. L'obiettivo è proprio questo, con l'imminente apertura e quindi diciamo messa in sicurezza della scalinata di Gellario che da largo magente, i lavori sono in corso, porterà poi nel cuore del centro storico quindi alle spalle della Chiesa Madre. L'obiettivo è proprio questo, rivitalizzare il centro storico, ridare luce splendore a questa parte antica e bella di Mammola.